La contaminazione da Pfas, ora un ragazzo di Lonigo diventa un caso nel suo sangue a un anno di distanza. Il valore di Pfoa è aumentato, segno che serve un'acqua senza inquinanti, dicono i comitati, e che i filtri da soli non bastano. Matteo Mokorabicic. 257 nanogrammi di Pfoa per millilitro di sangue ad aprile 2016, 316 un anno dopo, a luglio di quest'anno. Giovanna Dallago è di Lonigo e ha figli con il sangue contaminato da Pfas. Uno di loro, 23 anni, è un caso. Da lui si può capire come queste sostanze si comportino nell'organismo. Suo figlio è stato esaminato quest'anno nel maxi-screening sanitario della regione, ma era anche uno dei 500 del primo biomonitoraggio a campione, quello effettuato per capire gli effetti sulle persone. Ebbene, in un anno il livello di Pfoa nel suo sangue si è alzato di quasi 60 nanogrammi. Vero che gli apparecchi di rilevazione sono diversi e che c'è un margine di errore del 20% per ogni misurazione. Giovanna però resta preoccupata. Lei, con i cittadini dei comitati, chiede acquedotti nuovi e senza inquinanti. Ci sono in balo 80 milioni di euro, del cui sblocco, regione e governo si rimpallano le responsabilità. La regione intanto ha abbassato i limiti nell'acqua potabile e introdotto nuovi filtri. Possiamo ringraziare la regione o chi se ne sta preoccupando perché abbiamo fatto un passetto, abbiamo cominciato un po' a camminare. Però questo è il presupposto per imparare a correre, andare ai ripari ed arrivare a FAS zero. Vincenzo Cordiano le dà ragione. È l'ematologo che per primo sollevò il caso FAS in Veneto e torna a ribadire quanto detto sempre. E in attesa che si arrivi in qualche modo ad azzerare, ad eliminare completamente queste sostanze dall'acqua, è necessario che la popolazione sia fornita, rifornita di acqua priva di FAS. Altrimenti queste sostanze, anche se assunte in minime quantità, si accumulano nel nostro corpo e i livelli nel sangue tendono ad aumentare.